Anticipazione un post al sole, trame puntate dall'1 al 4 gennaio 2019. Guido aiuta Mariella a partorire. La nascita di un bambino nel giorno di Capodanno, lo sbocciare di un amore, un tradimento, new entry, litigi, sospetti, piani di vendetta e tanto altro ancora. La trama delle puntate in onda su Rai 3 dal 1 gennaio al 4 gennaio 2019 garantisce svolte colpi di scena. Le anticipazioni un post al sole annunciano che Guido aiuterà Mariella a dare alla luce il piccolo Lorenzo. La donna, grata al suo ex, non se la sentirà ancora di rivelargli la verità sulla paternità del bambino. Intanto a Palazzo Palladini arriverà Catello Cerruti, il papà di Salvatore. Tra i due non sembrerà scorrere buon sangue. Alberto scoprirà che Valerio ed Elena hanno avuto una relazione e inoltre spronerà l'amico a far valere i propri diritti. Inoltre ci apparirà molto vendicativo. Roberto, ancora provato per la travagliata vicenda legata a Vera Viscardi, verrà invitato da Marina a occuparsi del destino dei cantieri, mentre Arianna desidererà diventare mamma a tutti i costi e non riuscirà a pensare ad altro. Nel frattempo Rossella ritornerà a Napoli dopo essere stata a Torino dal suo fidanzato, proprio quando la relazione tra Diego e Beatrice sembrerà ormai essere arrivata al capolinea. Tra il fratello di Patrizio e la bella figlia di Siglia accadrà qualcosa di molto speciale. Salvatore si immedesimerà alla perfezione nel ruolo di papà, mentre l'altieri sarà attormentata da innumerevoli dubbi. Roberto inizierà a preoccuparsi quando si accorgerà che Giovanna ha intenzione di avviare delle indagini sul suo conto. E mentre Silvia farà di tutto per aiutare Guido e Mariella a ritrovare la complicità perduta, ci sarà chi, come Raffaele, sarà molto preoccupato per il rapimento dei pastori. La SOP parte inopea con le sue storie imprise di tematiche di scottante attualità, potere e passione ci aspetta tutte le sere dalle 20.45 alle 21.15, dal lunedì al venerdì su Rai3. Il nuovo anno ci offrirà Storyline al Cardiopalma. Comincerà alla grande. Tra Rossella e Diego sarà di nuova attrazione. Il feeling tra loro raggiungerà il culmine tanto che li porterà ad essere molto vicini e a scambiarsi un bacio. Tra Elena e Valerio sarà tutto finito, mentre Mariella non se la sentirà ancora di raccontare a Guido la verità. Arianna dovrà lottare con il suo desiderio di diventare mamma, mentre Roberto si rinchiuderà in se stesso. E mentre Marina lo esorterà a preoccuparsi del destino dei cantieri, ci sarà chi vorrà vendicarsi di lui, e non solo. Anche chi inizierà a sospettare della sua malafede. Soffermiamoci sulle anticipazioni un posto al sole d'inizio anno, per scoprire ciò che ci attenderà. Martedì 1 gennaio 2019 Doppio appuntamento dalle 20.30 alle 21.15. Convinto di trascorrere un capodanno triste e solitario, Guido si ritrova ad affrontare una situazione molto speciale, e ovvero una nottata adrenalinica, in cui sarà alle prese con il travaglio dell'altieri, che avverrà in auto. Dopo in mani sforzi nasce il piccolo Lorenzo. Intanto l'incontro organizzato da bice tra Salvatore Cerruti e il padre Catello è fonte di nuove tensioni. Tra il nuovo arrivato e il figlio non sembra scorrere buon sangue. Mercoledì 2 gennaio 2019 Roberto, dopo la fine della sua travagliata storia con Vera, è molto triste. È provato. E si chiude in se stesso. Valerio intanto raggiunge Alberto e gli chiede perdono. L'uomo però non sembra disposto ad accettare le sue scuse. Intanto Arianna desidera diventare mamma a tutti i costi e non vede l'ora che il suo destino si avveri. A Palazzo Palladini si verifica uno strano rapimento, quello dei pastori. Raffaele è nel panico. Giovedì 3 gennaio 2019 Valerio non è contento delle parole di Alberto e prende le distanze dai suoi propositi a dir poco vendicativi. Intanto il Paladini scopre che il suo amico ha avuto una relazione con Elena. Marina, sempre più angosciata per il futuro dei cantieri, mette sotto pressione Ferri. Tra Diego e Beatrice sembra tutto finito. I vatti vecchi non fanno altro che minare il rapporto. Rossella rientra a Napoli. Cerruti si immedesima alla perfezione nel ruolo di papà del piccolo Lorenzo. Mariella è felice ma nel contempo è assillata da mille dubbi. Venerdì 4 gennaio 2019 Tra Diego e Beatrice regna il gelo e i due non fanno altro che litigare. Un incontro a dir poco casuale è in grado di cambiare il corso delle cose ad entrambi. Alberto esorta Valerio a salvaguardare esclusivamente i propri interessi. Roberto teme che Giovanna inizi delle indagini sul suo conto. Silvia fa di tutto per aiutare Guido e Mariella a ritornare la coppia di un tempo. Anticipazione imposta al sole. Puntate di gennaio 2019 Elena e Valerio si lasciano definitivamente. Mariella dà alla luce il piccolo Lorenzo con l'aiuto di Guido. La storyline legata all'omicidio di Veronica che ha visto Alberto finire ingiustamente in carcere si è conclusa con la confessione shock di Vera. Come già hanno riportato gli spoiler ciò ha consentito al paladini di ritornare in libertà e a Valerio di ritrovarsi ricchissimo dal momento che tutto il potere è finito nelle sue mani. Il giovane però molto presto si ritroverà a ingerire un amaro boccone. Pare che perderà definitivamente l'amore della sua donna Elena Giordano e che dovrà lottare a lungo per ritornare a far breccia nel suo cuore. I particolari di questa nuova vicenda sono ancora top secret ma pare che gli autori abbiano intenzione di servirsi di questo escamotage per giustificare la temporanea assenza dalle scene dell'attrice Valentina Pace che come ben sappiamo è in dolce attesa. Quanto invece al futuro dei personaggi che hanno animato il giallo che per ben cinque mesi ci ha tenuti incollati al teleschermo sappiamo soltanto che sentiremo ancora parlare a lungo di Valerio e della sua famiglia. Il reintegro di Elena nel cast invece è previsto per la primavera estate 2019. E adesso soffermiamoci sul personaggio di Mariella Alchieri e sulla nascita del suo bambino o meglio del figlio di Guido. Le anteprime annunciano che il piccolo nascerà nel corso del doppio episodio speciale che andrà in onda il primo gennaio 2019 su Rai 3. Stando alle prime timide anticipazioni alla vigilessa verranno le doglie in un momento particolarissimo nel mentre sarà in servizio. Il suo piccolino dunque verrà alla luce in condizioni molto speciali. Sappiamo che durante la vigilia di Capodanno Guido e Mariella saranno di turno insieme a un tratto la donna inizierà ad avvertire i primi dolori. Vedremo che il del bue trovandosi alle strette si ritroverà nelle condizioni di dover assistere la sua collega e il tutto per l'impossibilità di raggiungere il primo ospedale vicino. Il parto dunque avverrà in auto. Il papà di Vittorio vedrà in diretta la nascita del suo bambino che Mariella deciderà di chiamare Lorenzo. E ci chiediamo l'Alchieri confesserà finalmente la verità? Arriverà a raccontargli che il papà non è Cerruti? Niente di tutto questo. La donna si ostinerà a celare al suo ex la vera paternità del piccino. Guido pertanto crederà di aver assistito alla nascita del figlio di Salvatore. Ulteriori anteprime segnalano che Cerruti si immedesimerà alla perfezione nella parte del papà tanto ad affezionarsi a Lorenzo. La scoperta della verità è ancora molto lontana e nuove intricate vicende sono pronte a rendere questa storyline ancora più complicata di quanto già non lo sia. Anticipazione un posto al sole prossime storyline Susanna deciderà di schierarsi dalla parte di Mallio. Rossella e Diego arriva il bacio. E' da un po' di tempo che un posto al sole con la trama relativa alla famiglia Picardi si sta occupando di una tematica molto forte e purtroppo di coccente attualità quella relativa alla violenza domestica. Le news relativa a questa vicenda segnalano che molto presto Nico avrà un ruolo di primaria importanza. Tenterà di difendere Adele dalle violenze di Mallio? Pare proprio di sì e lo farà per via legale? Anche questa è un'ipotesi da non escludere assolutamente. Intanto rumors segnalano che Susanna quando verrà a conoscenza della vera natura del genitore anziché adirarsi e schierarsi apertamente dalla parte della madre terrà un atteggiamento a dir poco ambiguo e incomprensibile. Vedremo che starà vicina a Mallio e quel che più risulta sconcertante è che lo sosterrà e appoggerà in tutto. La Picardi pertanto non riuscirà ad abbandonare il genitore al suo destino. Tutto questo a Nico come è prevedibile non piacerà affatto. E Adele? Cosa ne penserà del comportamento della figlia? La donna riceverà il conforto del genero? Pare proprio di sì. In aggiunta a ciò segnaliamo che a breve assisteremo a scontri e discussioni tra i due ragazzi anche piuttosto accesi. E adesso spostiamoci sul fronte Young e soffermiamoci su Diego e Rossella. Ecco una notizia che sicuramente entusiasmerà i detrattori della coppia formata da Beatrice e il fratello di Patrizio. Dalle prime news sul nuovo anno riguardanti questa coppia emerge che tra Diego e l'avvocatessa nonostante l'atmosfera magica del Natale regnerà freddezza e gelo. Tutto sembrerà finito tra loro e ciò coinciderà con il ritorno della figlia di Silvia a Palazzo Paladini. La ragazza dopo essere stata a Torino dal suo fidanzato ci apparirà triste e spenta. In altre parole in Piemonte dimostrerà di non aver trascorso un weekend con i fiocchi. Nel frattempo Diego prenderà sempre più consapevolezza che il suo rapporto con Beatrice è ormai giunto al capolinea e mentre sarà in strada farà un incontro che le cambierà la giornata. Stando ad alcuni rumors si imbatterà proprio in Rossella e tra i due scapperà un bacio sentito e appassionato. I due però non saranno liberi del tutto. nonostante questo l'attrazione avrà la meglio e li spingerà a condividere un momento molto intimo. Diego sconvolto tenderà di reprimere ciò che prova per la cognata e farà di tutto per non innamorarsi di lei. Ma più se lo imporrà più gli risulterà difficile. Se da parte del giovane ci saranno dubbi e perplessità da parte di Rossella invece ci sarà desiderio voglia di continuare. Diego farà capire di voler proteggere la sua famiglia da scandali e pettegolezzi e soprattutto di voler rispettare Patrizio. Al di là di tutto la passione tra i due ritornerà preponderante e sarà difficile contenerla. Se il video ti è piaciuto metti mi piace iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. tohumо 2 tohumano 2 1 2 1 2 2 3 4 11 Grazie a tutti